Ci sono le cento Sicilie, c'è l'isolitudine, ci sono i problemi, però c'è anche tanta speranza in questo libro. Sì, c'è decisamente la speranza perché abbiamo tutte le potenzialità e le caratteristiche per avere uno slancio per la nostra isola. Quindi nel volume ho focalizzato le problematiche che chiaramente ci sono e sono sotto gli occhi di tutti quotidianamente. Però in un ragionamento complessivo dove appunto io mi chiedo che cosa possa essere questa nostra terra e che poi la riprendo appunto tra una delle cento definizioni di bufalino. Quella che a mio avviso è quella che più dirimente è proprio il fatto di essere un'isola furba, nel senso che si va anche oltre il termine italiano. In realtà lui infatti la definisce sia furba anche esperta. E allora mettere in evidenza il fatto che esistano dei centri di decisione del potere, che sono gli esperti, che in maniera scientifica hanno voluto che questa terra fosse collocata, cementificata nel degrado, nella mancanza di sviluppo, è una cosa che dovevo sottolineare. L'ho fatto attraverso questo volume, però ovviamente alla domanda c'è anche una risposta. E la risposta è quella che ci affidiamo alle nuove generazioni in particolare, ma non solo a loro, per rilanciare una rivoluzione culturale che invece della nostra isola deve avere uno slancio. Uno slancio importante, ci sono tutte le condizioni per poterlo avere. Ecco perché alla fine termino in maniera positiva e perché non potrebbe essere diversamente oltretutto. Purtroppo il libro, chiamandosi l'isola furba, dice non soltanto dei singoli, ma dell'intera Sicilia, l'isola esperta. E allora bisogna guardare questa espertizza dove va a finire. E allora è un invito anche a guardare a un'altra Sicilia, una Sicilia dell'ingegno, della cultura, che guarda al futuro, che guarda a un nuovo modello di sviluppo. Anche nel nome dei beni culturali, perché no? Quei beni culturali che non sono il passato, ma che devono rappresentare il futuro della nostra terra.